Che paura mi fa Che puoi dare un test a te E chi li vede e strilla Oh mamma mia Gamba e spalla E vola via E non c'è chiama o villa Gettagli un po' E no Si taccarezza una mano frellosa E ti spacciuccia una bocca mamosa Mamma che schifo Ma sono un amico Carletto, l'uomo lupo, il dracolino e il Frankenstein Occhio che è Frankenstein Su setta pezzi C'ha le pive scariche L'uomo lupo, l'uomo lupo E sono qui con il loro boss E sono tutti qui Che abbiamo stretto in questa meravigliosa inquadratura Sentiamo un po' cosa combineranno questa sera Ma questa sera abbiamo un bel concerto Al Corsaro Rosto Partirà verso la mezzanotte Con tre ospiti molto importanti Mauro Golza, Nenzo Draghi e Pietro Baldi Fantastico Tre nomi che ci mandano subito alla mente Il mondo dei cartoons Il mondo delle sigle Wow Bellissimo E poi vediamo un po' Vogliamo sapere anche la formazione Perché vogliamo conoscere oltre al boss Anche tutti gli altri alvinissimi Allora il boss è Lorenzo Biagini Poi abbiamo il chitarrista che è Simon Luca Ciffa Abbiamo il batterista che è Simone Busatti La nostra cantante nelle retrovie che è Celeste di Stefano Il bassista che è Pratesi Francesco Il tastierista Davide Biondi E il mio compagno di avventura Andrea Denisco E l'altro cantante Fantastico Allora stasera repertorio Cosa combinate? Più rock? Più pop? Più magical? Più rock sicuramente Si spazierà da Gem Creamy Pollon Tiger Man Can Shiro Più ci sono le canzoni appunto di Mauro, Enzo e Pietro Che sono Chobin, Carletto, Principe dei Mostri Che paura mi fa in realtà Lupin X-Men Denver, Tazmania Questa cosa qua Allora io vi chiedo Un saluto per Radio Bruno Per gli ascoltatori E poi un urlo di guerra Per stasera Allora Intanto ciao a tutti dagli Alvinstar E poi finalmente si può dire Alvin Sì Si un campino non è si beve pomodoro il conto e dracola il conto e dracola e il charletto chiede è un primo che si allunga sempre meglio per capire e boom 33 33